Ci sono voluti oltre dieci anni e con il rischio di vedere neutralizzata una petizione firmata in modo massiccio dai cittadini di Patti. Alla fine, grazie anche all'interessamento del sindaco di Patti Mauro Aquino e del presidente della provincia Nanni Ricevuto, il palazzetto di Casenove Russo di Patti sarà intitolato ai fratelli Renzo e Tino Serrano. Si completa un iter iniziato nel 2000, quando durante alcune manifestazioni estive un gruppo di giovani della parrocchia di San Nicola di Bari di Patti si attivarono per la petizione. Nel frattempo ogni anno d'estate da allora fu organizzato un memorial per ricordare i due fratelli prematuramente scomparsi, distintisi come atleti della squadra di pallacanestro di Patti e anche in altri sport. Nel corso degli anni sono stati invitati tutti gli ex compagni di squadra con lo storico coach Gigi Manfrè e anche giocatori di Orlandina, Barcellona, Milazzo e San Filippo del Mela, avversari ed amici dei fratelli Serrano. Trascorso molto tempo proprio quando sembrava essere prevalsa, nonostante il desiderio di tantissimi pattesi, la volontà di intitolare la struttura sportiva ad altra persona del comprensorio di Patti è arrivata la buona notizia. Il palazzetto di Patti si chiamerà sinteticamente Palaserranò, intitolato ai fratelli Renzo e Tino. A salutare questo importante evento il sindaco di Patti Mauro Aquino, il presidente della provincia non ha ricevuto, bambini e grandi, amici, sportivi e soprattutto ex atleti che hanno condiviso con Renzo e Tino tante esperienze cestistiche.